I 5 stelle puntano sulle donne, le elezioni politiche scaldano all'Abruzzo. Non si candiderà invece il senatore Castaldi, cittadini al voto il 25 settembre. Il killer di Pescara può uccidere ancora, ospedale presidiato dalle forze dell'ordine notte e giorno, dopo l'agguato di lunedì cavallito, ancora in prognosi riservata ma in leggero miglioramento. Il coronavirus ammiete altre due vittime, ma i contagi sono stabili. Vaccinazione in calo in tutta la regione dopo il boom di una settimana fa. Pescara è inserito nel girone C, sfiderà le formazioni meridionali. Il teramo rilancia con un nuovo progetto, si punta a ripartire almeno dalla serie D. Un cordiale saluto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Vera TV per l'Abruzzo. In apertura la pagina politica. Ci sono soprattutto le donne tra i 5 stelle. Le possibili candidate alle prossime elezioni politiche scaldano i motori. Non si candiderà invece il senatore Gianluca Castaldi. A farci il punto Sergio Cinquino. Si torna a votare il prossimo 25 settembre e anche in Abruzzo i deputati e senatori eletti saranno molti di meno rispetto al passato. Trasticamente ridotti i posti. Quattro al Senato e nove alla Camera con il sistema elettorale che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. E con le alleanze che saranno decisive per non disperdere i voti ottenuti. Tra i 5 stelle non ci sarà tra i candidati il senatore Gianluca Castaldi che ha già ricoperto due mandati con il Movimento. Dove ci sono soprattutto donne tra i nomi probabili per le prossime candidature. Quelli di Daniela Torto, Gabriella Di Girolamo, Carmela Grippo e Valentina Corneli. Noi ci possiamo dedicare tranquillamente al programma come abbiamo già fatto con i nove punti e lo stiamo continuando a scrivere insieme all'apporto degli attivisti. Perché andiamo da soli e quindi non abbiamo bisogno di discutere come stanno facendo i partiti di destra e quelli che si dicono di sinistra e di centrosinistra per i seggi. Noi ci occupiamo del programma, andiamo da soli, ci aspettiamo un buon risultato perché stiamo organizzando il partito. Ovviamente i nostri consiglieri regionali e anche i parlamentari hanno fatto un buon lavoro. Sicuramente ci sarà un riscontro elettorale siccome c'è stato un buon lavoro e anche perché il presidente Conte è riconosciuto come la persona che ha guidato l'Italia in pandemia nel momento più difficile dell'Italia del dopoguerra. Scelta netta, Conte ha guidato l'Italia nel momento difficile però ha anche la responsabilità di aver fatto cadere il governo. Voi vi sentite responsabili? Questa responsabilità non ce l'ha assolutamente il presidente Conte, Draghi è andato via, era chiaro che volesse andare via già dopo la sua mancata ascesa al Quirinale. Ha messo le idee negli occhi a tutti i partiti cercando l'incidente, noi avevamo solo proposto quello che era necessario all'Italia, peraltro senza mai votare contro, solo astenendoci a un voto, poi sia il PD che la destra hanno approfittato di questo per andare al voto e visti i sondaggi. Ma insomma andiamo avanti con la testa alta, con la nostra lealtà e con la nostra coerenza. Andrà a dar manforti al centro-destra, Simone Angelosante, consigliere regionale del gruppo Valore Abruzzo, federato con Forza Italia, dove i nomi forti sono quelli di Nazario Pagano, Antonio Martino e Lorenzo Sospiri. Centro-destra in Abruzzo ormai governa la regione da tre anni e la sta governando bene, tra mille difficoltà dovute alla pandemia, ultimamente alla guerra, ai tanti ritardi burocratici che ci sono stati proprio a causa di questi eventi. Ma adesso si sta lavorando sodo e si cominciano a dare delle risposte serie e concrete alla cittadinanza. Io sono convinto che il centro-destra in Abruzzo farà un ottimo risultato e per ciò che riguarda la mia parte politica e il mio partito di riferimento, che è Forza Italia, sono altrettanto convinto che saprà raccogliere le istanze di tante persone moderate che guardano al centro del centro-destra e sono certo che Forza Italia saprà dare risposta a queste istanze. E torniamo a parlare dell'omicidio di Pescara, ospedale presidiato, la struttura sanitaria presso la quale è ricoverato Cavallito, che resta in prognosi riservata, ma le cui condizioni sono in leggero miglioramento, in quanto il killer potrebbe terminare quanto iniziato in quel folle primo agosto, dove in un bar del centro ha ucciso l'architetto pescarese Walter Albi. Sergio Cinquino. E adesso il rischio è che il killer possa tornare a colpire. È vigilato in ospedale Luca Cavallito al terzo giorno di rianimazione nel nosocomio di Pescara, in lieve miglioramento dopo i due interventi successivi all'agguato di lunedì sera in Viera Vasco con i cinque colpi in corpo, quattro dei quali già rimossi dai sanitari e che lo hanno ridotto in fin di vita senza ucciderlo, come avrebbe voluto l'attentatore, che ha freddato invece l'amico Walter Albi, morto all'istante, in quella che resta la storia più efferata del crimine a Pescara per modalità di esecuzione in stile mafioso. È proprio per il livello dell'agguato con la freddezza dell'attentatore che spara prima da fuori, il bar del parco nel centro cittadino, poi entra e prosegue la sua missione di morte, sparando a bruciapelo ai due amici e quindi si preoccupa di prendere i cellulari rimasti sul tavolo dove Albi e Cavallito si apprestavano a consumare le dodici pizzette ordinate che gli inquirenti temono che il killer o chi per lui possa tornare ad uccidere in ospedale dove il 49enne ex calciatore pescarese si trova ancora in prognosi riservata e in coma farmacologico. Ed è per questo che è vigilato giorno e notte che il questore Luigi Liguori ieri è andato personalmente in ospedale per coordinare la vigilanza con le pattuglie che facevano la spola dentro e fuori il nosocomio e gli uomini della polizia a presidio che si alternavano alla vigilanza. L'attentatore è un killer professionista sostengono gli investigatori al quale solo per un miracolo e per la forte tempra di Cavallito non è riuscita completamente la missione di morte nonostante la gragnuola di colpi sparata con particolare accanimento proprio su Cavallito e che avrebbe potuto commettere anche un altro errore non aver visto il terzo cellulare rimasto a terra al fianco dei corpi nel quale potrebbe celarsi la chiave per risalire ai mandanti e al movente. E oltre alla testimonianza del sopravvissuto che gli inquirenti sperano possa essere resa in caso di ulteriore miglioramento potrebbe essere proprio il terzo cellulare a svelare gli ultimi contatti dei due amici pescaresi che fino agli ultimi secondi prima di essere colpiti scambiavano messaggi con qualcuno che forse aspettavano forse l'attentatore o chi potrebbe averli portati nella trappola mortale. Veniamo alla pagina dedicata all'epidemia da covid-19 sono 1679 con una situazione stabile rispetto a ieri casi positivi registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti tuttavia purtroppo registra due nuovi casi una ottantenne e una settantanovenne sale così il numero delle vittime a 3.552 ci sono 1.819 guariti in più rispetto a ieri gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43.011 meno 142 rispetto a ieri ci sono inoltre 269 pazienti ricoverati in ospedale. dopo un boom di qualche settimana fa calano le somministrazioni di vaccini anti covid un po' in tutta la regione sentiamo Chiara Bonatti. Dopo le settimane di boom per le somministrazioni scendono le vaccinazioni per la quarta dose la raccomandazione è sempre quella di procedere alla dose booster che difende dalla malattia grave. Due o tre settimane fa c'è stato un boom importante di afflusso importantissimo poi piano piano il flusso si è ridotto ma adesso da due settimane siamo su numeri costanti sono basi ma posso dire che siamo soddisfatti ovviamente più persone vengono delle categorie indicate meglio facciamo. Per quanto riguarda la dose aggiornata qualcuno magari sta aspettando perché pensa che la copertura sia maggiore questo è vero? No non è assolutamente vero perché c'è un ultimo articolo pubblicato su una rivista molto importante una rivista internazionale che conferma che la quarta dose con l'attuale vaccino dà la stessa copertura che darebbe o che darà la dose aggiornata quindi le categorie indicate devono devono tra virgolette sempre venire a fare questa dose questa questo secondo booster avere la copertura contro la malattia grave in una percentuale altissima che è tra 80 e 90 per cento senza aspettare il vaccino aggiornato poi se ci sarà bisogno perché ovviamente il virus cambia le condizioni pandemiche cambiano se ci sarà bisogno della dose ulteriore di quella aggiornata poi questo si saprà quando sarà il momento giusto quindi novembre dicembre gennaio ancora non possiamo dire niente le raccomandazioni a livello internazionale sono queste. Per le altre categorie bisognerà aspettare non ci sono tempi certi ma si spera si possa aprire al più presto per cercare di prevenire eventuali nuove ondate. Su questo non ho la risposta io seguiamo le raccomandazioni seguiamo quello che ci dicono gli studi quindi attualmente vacciniamo queste categorie queste che sono state già definite. Una donna di 31 anni residente nel Pescalese è stata ricoverata presso la clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti per essere stata contagiata dal vaiolo delle scimmie. Si tratta di un caso raro al femminile poiché in Italia se ne contano finora 5 mentre la diffusione tra i mascoli ha toccato quota 500. La donna è in condizioni cliniche buone ed è stabile segue la terapia prevista dal protocollo per Jacopo Vecchiet responsabile dell'unità operativa la malattia è in fase di regressione per cui entro qualche giorno la paziente potrà essere dimessa. E vediamo adesso al progetto della fondazione Tercas che punta a rilanciare le ceramiche di Castelli conosciute in tutto il mondo. Sentiamo Chiara Bonatti. La fondazione Tercas accanto dei borghi della provincia di Teramo sostiene Art in Act giunto alla sua non edizione con il premio Giovani per la ceramica organizzato dalla fondazione Cingoli un premio che promuove l'arte e le nuove generazioni che mettono in campo la loro arte e le novità in un settore antico ma allo stesso tempo che si rinnova in continuazione con giovani desiderosi di prospettive che legano innovazione e tradizione. Le novità sono interessantissime perché la rete di partner si ampia quindi la manifestazione diventa un qualcosa di sempre più condiviso. Per quanto riguarda i giovani verranno esposti 15 dei ragazzi partecipanti alla seconda edizione del premio GXC Giovani per la ceramica. Sono ragazzi molto in gamba, ragazzi che si sono confrontati su tre temi. Il tema del concept innovativo premio Giancarlo Ciannella, il premio aderenza alla tradizione Castellana premio Serafino Mattucci e il premio per l'arditezza tecnica e l'industrializzazione premio Camera di Commercio del Gran Sasso. Quindi ecco, ci attendiamo una bella edizione. Quanto è importante per Castelli in questo caso che i giovani si appassionino alla ceramica e soprattutto ci sia una nuova generazione che prenda il posto appunto magari di una vecchia generazione che sta andando in pensione per rinnovare le botteghe? Ma appunto non è solo quanto sia importante per Castelli, ma quanto Castelli possa essere importante per i giovani perché da una parte le cose funzionano se c'è l'avvicendarsi delle generazioni e il tramandarsi della tradizione e della maestria di questi, ecco, io li chiamo proprio maestri della ceramica. Dall'altra però è importante far capire il valore che Castelli ha della propria tradizione, del proprio territorio che in qualche modo Castelli rappresenta. Quindi è importante che ci sia questo scambio bionivoco tra sicuramente la tradizione castellana e la produzione castellana ai giovani, ma anche viceversa per i giovani il discorso appunto del capire l'importanza del prodotto Castelli, della tradizione, della cultura Castelli. La fondazione Tercas sostiene le aree interne e soprattutto dà spazio a quelle che sono le peculiarità di ogni territorio, in questo caso Castelli e la ceramica. Questa iniziativa c'è cara non soltanto perché sottolinea il ruolo dei giovani nella reinterpretazione di Castelli e della tradizione castellana, ma anche perché attua pienamente i principi della sussidiarietà circolare e quindi enti pubblici, enti del terzo settore e popolazione che si uniscono in una corresponsabilità sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva. Ed è questo che secondo noi costituisce il vero successo di qualsiasi iniziativa. Giuria Nova, il cittadino governante, le forze della sinistra scendono in campo con un'iniziativa popolare per modificare la variante al piano di recupero dell'ex Saddam. Ascoltiamo l'Iro Nazionale. Un teatro da 800 posti, più verde per qualificare la zona sud di Giulianova, la famosa ex Saddam creando un nuovo centro in città. Il cittadino governante e le altre forze della sinistra di Giulianova con la partecipazione dell'associazione Demos rilanciano la proposta di uno sviluppo diverso e più armonico delle aree dell'ex zuccherificio. In un dibattito pubblico illustrate le proposte che dovranno essere portate all'attenzione dell'amministrazione comunale, tenuto conto che la variante al piano di recupero per lo sviluppo di quella zona è stata già approvata ma che non piace alla sinistra Giuliese. Noi abbiamo presentato emendamenti in consiglio, sono stati respinti, allora a questo punto c'è una fase ovviamente interlocutoria fino a che non ci sarà poi l'approvazione finale che è quella di possibilità di presentare osservazioni e noi le stiamo elaborando, le presenteremo nei prossimi giorni, ne presenteremo 16 e poi ovviamente noi vorremmo coinvolgere anche i cittadini perché anche questo è previsto, noi abbiamo un regolamento della partecipazione che permette di, per esempio in questo caso, inoltrare una proposta di iniziativa popolare per quanto riguarda temi importanti per la città come in questo caso e questa iniziativa la stiamo mettendo in piedi. Le proposte che verranno illustrate ai cittadini sono chiare, Giulianova è una città policentrica perché può vantare più zone centrali, ma ne manca una in via Trieste Sud. La proposta nostra si articola soprattutto, per questo raccoglieremo le firme, in una piazza pedonalizzata, sullo sfondo il teatro pubblico di 800 posti, un vero teatro e poi accanto al teatro, insomma sullo sfondo della piazza, un'area, un'ampia area di verde urbano, una sorta di parco sui 4.000 metri quadri che nel cuore di tutto questo insegnamento qualificherebbe in modo tutto il resto, anche il residenziale, anche il commerciale e quindi noi non pensiamo perché ci si sia arroccati, perché l'abbiamo già consigliato, il Consiglio Comunale abbiamo già proposto questo, perché ci si sia arroccati da parte dell'amministrazione e anche forse della proprietà con cui vorremmo interloquire su posizioni che comunque configurano solamente una zona che potrebbe essere rischiosa per avere alla fine lì un quartiere un po' dormitorio, un po' centro commerciale, niente di più, il centro di Genova meriterebbe anche altro. Questo significa intanto dare anche un nuovo impulso, una nuova spinta all'intero quartiere dell'Annunziata? Certo, tanto è vero che lì c'è una seconda proposta che presentiamo in contemporanea, che è quella di realizzare su quello che a Genova tutti conoscono come il cannucchiale verde, che purtroppo adesso il piano radore prevede come zona da edificare, vorremmo quanto meno l'area che è in cessione, sono circa 8.000 m2, possa essere ricavata a est di questa porzione che va tra via Trieste e lungomare Spalato. Questo fa capire bene che se avessimo il 50%, cioè circa 8.000 m2 sul lungomare Spalato, avremmo un altro importante parco che qualificherebbe quella zona centrale di cui parlavamo e anche l'Annunziata. Restiamo sul tema, una petizione popolare per modificare la variante al piano di recupero dell'ex Saddam di Giulianova, a farsene portavoce è l'associazione Demos. Lino nazionale. Sarà necessario il coinvolgimento dei cittadini per fare in modo che l'amministrazione comunale possa prendere in considerazione le proposte di modifica della variante al piano di recupero dell'ex Saddam, zona sud di Giulianovalido. Necessari almeno 500 firme per ottenere la convocazione di un consiglio comunale sulla questione. La petizione parte da subito e andrà avanti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21 con i banchetti allestiti in piazza Martiri Fosse Ardeatine. Il professor Carlo Di Marco, esperto costituzionalista e responsabile dell'associazione Demos per la democrazia partecipativa. È un fatto nuovo, è un evento di discontinuità per i partiti politici di Giulianova, nel senso che è una delle pochissime volte in cui i partiti decidono di muoversi attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa. La proposta di iniziativa popolare è uno di questi strumenti, utilizzato pochissimo, Giulianova è stato utilizzato una volta sola, ma tanti anni fa per la spiaggia per i cani. Adesso sono i partiti a farlo, è un fatto importante, un fatto importante perché i partiti decidono di fare politica, in questo caso politica di opposizione insieme ai cittadini. Fondamentale diventa la partecipazione dei cittadini e soprattutto più firme verranno raccolte e meglio sarà perché l'iniziativa messa in campo avrà un peso specifico maggiore. Se le forze politiche che promuovono l'iniziativa riescono a spiegare bene ai cittadini, i cittadini saranno sicuramente sensibili ad un'iniziativa di questo genere. Poi si tratterà di vedere l'atteggiamento della maggioranza perché una volta raccolte le firme e una volta controllata la loro legittimità, la loro regolarità, il sindaco entro 30 giorni deve convocare il Consiglio Comunale e mettere all'ordine del giorno queste due proposte. Potrebbe accadere che l'amministrazione comunale si metta un po' di traverso e in questo caso conta moltissimo la sensibilizzazione che si sarà riusciti a creare prima perché un conto è se si raccolgono 500 firme, è un conto se se ne raccolgono 1500 e un altro conto ancora se se ne raccolgono un paio di migliaia. Primo Consiglio Comunale infuocato a Roseto Pavone critica l'amministrazione comunale. Vediamo com'è andata con Lino Nazionale. Un po' a sorpresa Ignio Pavone, esponente della maggioranza a sostegno del sindaco Mario Nugnes a Roseto ha indossato nell'ultimo Consiglio Comunale i panni di un consigliere di opposizione, ha bacchettato l'amministrazione sui ritardi negli interventi di manutenzione eseguiti in piena stagione estiva e su alcune scelte come il servizio di Busnavetta che avrebbero dovuto essere ponderate meglio. Avendo una lunga esperienza, conoscendo anche la macchina amministrativa, quella che è rimasta della macchina amministrativa del Comune di Roseto, cerco di stimolare dalla mia esperienza di sindaco e di amministratore di tanti anni, riesco a individuare e a capire quali sono le problematiche che vanno affrontate e i modi termini in cui devono essere affrontati. Pavone giustifica poi l'azione amministrativa perché ritiene che se errori sono stati fatti questi sono dovuti anche ad una macchina organizzativa che nel tempo ha perso qualche pezzo per via dei pensionamenti e non ci sono stati successivamente i rimpiazzi. Abbiamo dei problemi nella Polizia Municipale, è evidente, quindi io dico che dobbiamo continuare con l'esternalizzazione dei servizi amministrativi e fare sì che invece quei pochi che abbiamo di Polizia Municipale siano sul territorio. Per esempio questa è una cosa con cui io cercai di fare al momento in cui c'è il sindaco e mi batterò anche adesso affinché avvenga perché noi abbiamo bisogno che la Polizia Municipale sia sul territorio, le manutenzioni vanno programmate col tempo, per programmarle bisogna avere in bilancio la copertura finanziaria per fare gli appalti, se noi non abbiamo in bilancio e lo copriamo solamente con la tassa di soggiorno evidentemente prima di giugno o luglio non la puoi incassare e quindi non la puoi spendere e quindi arriviamo in ritardo e prendiamo poi le lamentele di gran parte dei cittadini. Pavone chiede anche un'accelerazione per quanto riguarda il nuovo piano regolatore, il piano De Magnale. Noi siamo da stimolo, da pungolo a un'amministrazione giovane soprattutto per quanto riguarda la giunta comunale che si sta impegnando ma che ovviamente ognuno paga lo scotto iniziale della inesperienza perché non è che tutte le persone le metti ognuno a un posto e il giorno dopo ha un'esperienza su quel campo. Si stanno impegnando tutti gli assessori, io cerco, ripeto, conoscendo la situazione, l'organizzazione, come funziona anche, cerco e questo è il mio ruolo, di stimolare, il mio è solo stimolo propositivo e positivo per cercare di migliorare dove le cose possono essere migliorate. Ed ora apriamo la pagina sportiva, calcio serie C, il Pescara passa dal girone del centro Italia a quello meridionale del campionato di Lega Pro che prenderà il via il prossimo 29 agosto. Tutte le ultime novità nel servizio di Sergio Cinquino. Il Pescara passa dal girone centrale a quello meridionale di serie C. Va deciso questo pomeriggio il Consiglio di Lega Pro che ha provveduto alla compilazione dei tre raggruppamenti da 20 squadre previsti per il prossimo campionato 2022-2023 al via dal 29 agosto, mentre per i calendari bisognerà attendere la giornata di domani. Una decisione che era nell'aria già negli ultimi giorni, soprattutto da quando, oltre alla fermana, era stata ripescata in C per il forfè di Teramo e Campobasso la Torres con l'altra formazione sarda dell'Olbia già nel girone B dallo scorso anno. E proprio la Torres in sostanza ha preso il posto del Pescara nel girone del centro Italia anche per non dividere le due squadre isolane. Ma in verità la probabilità che il Pescara potesse essere confermato nel girone del centro Italia disputato lo scorso anno finendo al quinto posto dietro Entella, Cesena, Reggiana e la promossa Modena e poi eliminato ai playoff promozione erano davvero poche. Tanto è vero che a passare dal girone centrale a quello meridionale orfano di diverse squadre del sud, tra le quali il promosso Palermo, è stata anche la Viterbese che lo scorso anno era insieme al Pescara nel girone centrale. Un raggruppamento per la verità annunciato già da indiscrezione nei giorni scorsi e un campionato considerato quello del girone C, almeno sul piano agonistico ambientale più impegnativo, con squadre come il Catanzaro, già indicate come favorite per la vittoria finale, dell'unico posto utile per la promozione in B nella fase a gironi, prima dei complicatissimi playoff promozione. Questa è la schermata delle 20 squadre che si daranno battaglia quest'anno, tra le quali Avellino, Taranto, Latina e Monopoli. Squadra dell'attuale allenatore del Pescara Alberto Colombo, che conosce bene il girone C per averlo disputato con un buon campionato lo scorso anno con la formazione pugliese, eliminata proprio dal Catanzaro ai quarti. Il Teramo Calcio prova a ripartire con un nuovo progetto dopo il no del Tribunale all'iscrizione al campionato di Serie C. Il Teramo Calcio è fuori dalla Serie C, dopo dieci anni non parteciperà ad un campionato professionistico e anche la Serie D è un rebus, ma l'imprenditore siciliano Giuseppe Spinelli, da noi sentito telefonicamente, ha riferito di essere ancora interessato, ma solo con una nuova società. Dunque delusione, amarezza e disgusto, questi sono i sentimenti che i tifosi del Teramo stanno vivendo in questo momento difficile. Loro sono i più penalizzati dopo l'esclusione dalla Lega Pro. Una città umiliata, un bene comune cancellato. La speranza ora è che si faccia chiarezza sulle responsabilità di ogni singolo attore di questa imbarazzante situazione messa a sua d'arte. Il gruppo Ciaccia sta valutando anche la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza negativa del Tar, per oggi è prevista un'assemblea dei soci. Intanto il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, per garantire la continuità del calcio teramano, si è già attivato intensificando l'interlocuzione con il Presidente federale Gabriele Gravina e questa mattina in municipio ha incontrato anche la stampa per fare il punto della situazione. Sto facendo come amministrazione quello che devo, quello che voglio e quello che è giusto. Cioè avviare subito, senza attendere ulteriore tempo, l'avviso per acquisire i progetti, valutarli e sottoporli, sottoporre il progetto alla federazione che ringrazio e con la quale c'è un'interlocuzione fitta per poter procedere a dare continuità al calcio teramano, secondo quanto prevede l'articolo 52,10 delle norme federali. Un'apertura ampia alla comunità, a tutti coloro che vogliono partecipare e presentare una progettualità che sia soprattutto di prospettiva, rispettosa e degna di Teramo Città capoluogo. Nessuno può chiamarsi fuori in questo momento da un dovere di lavorare affinché ci sia continuità per il calcio teramano, assumersi la responsabilità, un pezzo di responsabilità e proiettare queste responsabilità sul futuro. Sto all'avvocato Gianni Gebbia di coordinare questa commissione che sarà ministra esterna e interna per dare una valutazione sui progetti che verranno presentati, di supporto poi alla decisione, alla prima valutazione da parte dell'amministrazione, senza dimenticare che questa fase è una fase che comunque poi dovrà portare a trasmettere alla federazione la proposta e sarà la federazione come è giusto che sia a decidere. I tempi sono molto stretti, quelli che abbiamo in questo momento stabilito, entro il 10 agosto attendiamo la trasmissione delle manifestazioni di interesse con le progettualità perché ovviamente la tempistica delle scadenze dei calendari sportivi sono molto stringenti ma soprattutto per rispetto della federazione e per mettere la federazione in condizione di poter valutare in tempi accettabili e sostenibili le proposte che verranno dalla città. E questo era il nostro ultimo servizio, si ferma qui il Tg Abruzzo, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.